Abbiamo qua un oggetto, un oggetto marchiato ASEA, Megger Insulation Tester, Mark Free, serie 3, Made in England. Abbiamo un oggetto con un cazzo che si preme e un altro cazzo che si preme anche lui. Ma noi dobbiamo verificare se questo oggetto è sano, c'è una maniglia semibloccata. Questo coso gira, il che è una cosa buona, ma noi dobbiamo verificare se funziona, magari pulirlo. Vediamo se intanto... Duro come la merda. Questo è logicamente anche lui bloccato. Vediamo se e cosa riusciamo a ricavare da questo. Questo è un vero troggiaggio. È un vero troggiaggio. Oh, questo si svita. Svite A magnetica. Maledetto chi usa le viti non magnetiche. E questo coso... Ah, dai, si è sbloccato, che bello. Meno male. Vedo l'uggine. Questo va pulito. Ruggine. Bene. Ok, ma bando alle ciance. Vediamo se riusciamo a... A capire come è messo dentro. Questo si è sbloccato anche lui. Magari... Io amo il VD40. Penso che si possa osservare dall'uso che ne faccio. Non mi ha mai dato problemi di nessun tipo. Non ha mai rovinato plastiche. Non ha mai danneggiato componenti né circuiti elettrici. Mai. Mai un problema. In tutta la mia vita non ho mai avuto un problema col VD40. Anzi, ho avuto solo beneficio. Del beneficio. E quindi io uso il VD40. Che vi piaccia o no, fatevene una ragione. Io uso il VD40. Io uso il VD40. E adesso sbloccherò anche queste viti. Grazie a un abbondante uso di VD40. Che permette anche di pulire. Vedete? Io posso pulire. Con il VD40 posso effettuare una pulizia. Eh, ma non si fa. Eh, ma rovina questo, rovina quello. Mai rovinato niente in tutta la mia vita. Non ho mai rovinato niente col VD40. Non mi ha mai dato un solo problema il VD40. Mai. Ho tratto solo benefici. Benefici dal VD40. Il beneficio. Ho tratto del beneficio. Unicamente beneficio dal VD40. E quindi ora... Dopo aver unto per bene le superfici di questo Megger... Potrei provarlo direttamente. Però... Non ho buttato forse così. Sì, è probabile. Ma io preferisco un attimo verificare l'interno. Anche per curiosità. Vedere com'è fatto. Sono riuscito a sbloccare anche questa vite evidentemente spanata da qualcuno. In questo modo. Ecco qua. Ok Ora abbiamo un coperchio Un coperchio che forse si alza da qui Quindi Interessante, guardate Già vedo Intanto ha un profumo di vintaggio Vedo un condensatore qui E all'interno vedo Vedo due resistenti Ma vedo un condensatore Ora io non No, mi sa che non lo smonterò questo maker Potrei provare a dare una pulita qui E' stato smontato Qui manca una vite Manca una vite E c'è della sozzeria Vediamo Vediamo se con dell'alcol isopropilico puro Che cosa si toglie Non si toglie un cazzo Va bene Lo lasciamo così Pulirò il vetro all'interno Dopodiché lo richiuderò Il vetro all'interno non si pulisce Che manco per l'anticamera del cazzo Ok Chiudiamo Abbiamo dei contatti qui Che premono questi cazzi E sono isolati Ottimo Quindi va bene così Non mi piace Questo isolamento qua Speriamo che non sia rotto lo strumento Non ci resta che provarlo Non c'è molto da fare Io gli do una VD 40 Sui filetti Ecco fatto E richiudo E richiudo Ok L'ho richiuso Magari una pulitina qui Giusto per fare scorrere Questa maniglia E vediamo se riusciamo Qualcosa pulisce Ma sì Dichiaro che va bene così Rondella E vite Bene Bene Adesso proviamo un condensatore guasto O semi guasto Allora qui Ducati Ma non abbiamo i terminali Perché dobbiamo crearli Quindi per creare i terminali Usiamo I soliti calenti Vediamo se riesco a cercare i terminali Vediamo se riesco a ficcarglielo Vediamo se riesco a ficarglielo Sì Riuscirei anche Ma non tiene Ma no, tiene, dai Quindi Quindi condensatore Mi sa che non funziona un cazzo qua Mi sa che non funziona un cazzo Vediamo questo bianco Beh no, questo però Misura infinito Quindi Questo mi misura una perdita E questo, vediamo Questo cosa mi misura Uh, questo mi misura Proprio un cortonetto Quindi sto coso funziona Questo condensatore in corto Quindi questo Megger sta funzionando Ma guarda Indovinate da dove viene questo Meg Anche questo è in corto Da se apro Mi da infinite Sì, avete indovinato Viene dalla spazzatura Dalla spazzatura Anche lui Questo è buono Questo è buono Incredibile Bello Molto bello Devo dire Possiamo provare questa resistenza No Questa è Questa è bassa Allora, vediamo questa resistenza Da Marrone, grigio Giallo 100 qualcosa E in effetti Siamo lì Siamo sui Due Cento Kilo Mi misura Circa 0,2 Mega Da quant'è questa resistenza Da 195 Kilo Mentre c'è un Moscone Lo devo eliminare assolutamente Questo Megger funziona Così come l'insetticida Anche l'insetticida funziona E quindi abbiamo un altro oggetto Che è stato gettato via Senza alcun motivo Perché funziona Out of the box Funziona Io Come al solito Sono senza parole Vediamo se Non so se riesco a misurare I kilovolt Forse Come faccio Beh Sicuramente 500 volt Questo mi misura Vediamo Lo mettiamo in alternata E attacchiamo questi Qua Poi giriamo piano piano Eh sì Lui genera Vediamo Eh sì La frequenza non è Non è per la quale Quindi lui non Misura la merda La merda misura Però Lui sta funzionando Che dire Ottimo così Comodo Portatile Massiccio Massiccio Pesante Sporco 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 di merda Chissà se si riesce a pulire in qualche modo Questo ce l'ha trovato Alessandro Nella spazzatura E ce l'ha portato con gioia E noi con gioia lo utilizziamo Su eBay ce ne sono diversi Costano poco Sono Economici Oserei dire Questo è Di una marca Quella vera e propria Se non mi sbaglio Mentre questo è un altro 20 GB Sono circa 25-30 euro Ecco Qui me lo dai Me lo dai in dollari Non so per quale cazzo di motivo Però è lui E Boh Non so di che periodo è Ci sono diversi video Che parlano di questo oggetto Io ne ho riparato uno che sta qui E adesso ne ho due Grazie alla spazzatura Io ho riparato questo in un mio vecchio video E questo è più piccolino E questo è più piccolino Molto interessante Molto interessante Questo per ribadire sempre il solito concetto Che a volte nella spazzatura si trova della roba gettata via Che funziona perfettamente Che ha comunque un valore Che è utilizzabile E che si può sistemare con poco E la cultura deve essere Quella di non sprecare le cose Perché buttare via questi oggetti Regalali a qualcuno Vendili su ebay Ma buttarli via no Non si fa Non si fanno queste cose Io ho l'allergia E adesso la pianto qui Ah ecco C'è il moscone C'è il moscone maledetto Presto Presto Dov'è? Dov'è? Bastardo dove sei? Vieni qua Bastardo era qui Era qui un attimo fa Maledetto Purtroppo in questo periodo Entrano Eccolo E qua Entrano delle specie di api E qui E qui Muori Devi morire Muori Un moscone Una mosca Tiè Muori Tu morirai lassù Citazione Citazione del film L'esorcista Tu morirai lassù Muori Fuori Fuori Maledetto Fuori Bene Guardate abbiamo compiuto questa cosa Possiamo chiudere questo video Grazie a tutti Grazie.